I diavoli rossoneri campioni d'Italia! Non perdiamoci! Non facciamo i tifosetti da bar, no! Quelli che sfottono chi sta peggio di noi! Non facciamo il classico tifo da bar, chi sta peggio di noi! Sfottiamo l'avversario ogni giorno! Pensiamo alla nostra squadra! Abbiamo un calciomercato da completare! Quindi pensiamo solo a noi stessi! Ha 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 ha!